Gio di Tonno, Notre Dame di Paris, un commento a questa serata di Marche Story Show? Una bella serata, per me la musica e i borghi hanno qualcosa in comune, la popolarità, il fatto che vengono vissute entrambe con grande passione e felice di essere stato qui a questa bellissima serata e soprattutto per promuovere e incentivare ancora questo evento bello di Marche Story che si terrà poi a settembre quindi mi raccomando seguite sempre Marche Story.